Avrebbe esticato e programmato il suicidio di un amico, tragedia che si è poi verificata su una spiaggia di Porto Empedocle il 25 agosto scorso. Per questo un minore è stato arrestato ieri dai militari della compagnia di Caltanissetta. Hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, denunciandolo anche per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e per divulgazione per via telematica di questo materiale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo. Le indagini sono state condotte dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Claudia Caramanna, e dei sostituti procuratori Paoletta Caltabellotta e Francesco Grassi. Si è accertato che il minore aveva consapevolmente assistito e supportato l'amico durante le fasi preparatorie ed esecutive del suicidio e gli avrebbe anche dato consigli per impedire che le persone a lui vicine potessero comprendere ciò che si accingeva a realizzare. L'uomo era rimasto deluso per essere stato scartato in un concorso per l'accesso alla Polizia di Stato e aveva visto svanire la possibilità di coronare il suo sogno. Già prima della partenza per il concorso aveva maturato la volontà di suicidarsi condividendola attraverso messaggi con l'amico minorenne. Se ne sono scambiati tanti nei quali veniva programmata la realizzazione dell'evento che avrebbe visto partecipare attivamente anche il minorenne decidendo il giorno e il luogo dell'esecuzione e l'utilizzo dell'arma da fuoco, circostanza che poi si è verificata il 25 agosto scorso in una spiaggia di Porto Empedocle. Dalle articolate indagini dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta è emerso anche come il minore, disponesse di un'ingente quantità di materiale pedopornografico sui telefoni cellulari e queste circostanze evidenziano ancora di più il profilo di personalità del giovane.